La scena finale, Evgeni dice che ha commesso un enorme errore e ha capito quanto Tatiana era proprio la sua anima gemella. Però Tatiana ormai è sposata con Gremin, è diventata una nobile donna e lei confessa lo stesso di continuare ad amarlo, ma che non tradirebbe mai Gremin, suo marito. La scena finale, La scena finale, è l'ispirazione e la capacità di scrivere un duetto d'amore negato per antonomasia. Uno potrebbe studiare vent'anni in un conservatorio come scrivere un duetto d'amore dove arrivare ai climi, ai culmini e lui ce la fa come una naturalezza. Probabilmente ci avrà anche lavorato tanto, ma il risultato che ne viene fuori è di una naturalezza incredibile. La scena finale, 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 iscriviti al canale